Ho scelto il rampone perché ho cuore il mio futuro. Ho scelto il rampone perché voglio fare il grafico. Io ho scelto il rampone perché voglio studiare robotica e fare robot. Io ho scelto il rampone perché voglio fare il commercialista. Ho scelto il rampone perché voglio fare il fotografo. Ho scelto il rampone perché voglio diventare un informatico. Ho scelto Il Rampone perché voglio diventare un consulente di marketing. Ho scelto Il Rampone perché voglio lavorare nel mondo del cinema. Io ho scelto Il Rampone perché ci fa collaborare con le aziende esterne. Il mio futuro dopo Il Rampone, il grafico pubblicitario. Il mio futuro dopo Il Rampone, l'ingegnere informatico. Il mio futuro dopo Il Rampone, il contabile. Qui a Rampone dopo 5 anni avrai un diploma finito e dopo potrai scegliere se andare al lavoro o andare all'università. Io ho scelto Il Rampone, sceglielo anche tu.